JD ruba le mutande. Lo strozzerei. Whisper ha l'istinto assassino. Questi canini sono armi assolutamente micidiali. E Toby? Perde una bava verdastra dalla bocca. Che imbarazzo! A chi posso chiedere aiuto per i problemi di un coniglio? La clinica degli animali imbarazzanti è aperta a tutti. Joanna Page e il dottore Abraham vi aspettano. Aiuto animali imbarazzanti. Ogni mattedì alle 23. Solo su Celle. Grazie a tutti.